Con un deposito più o meno là potrei forse, dico forse, farcela per un deposito comune. Allora, autosaving, di nuovo. Allora, allora, quindi a queste parti, qua, facciamo un deposito, Universal Depot. Alla speranza che ci mettano qualcosa. A meno che io non mi faccio il conto di quello che serve qua. Concrete Extractor. Mi porto un rover con otto droni. Mi porto qua un rover con otto droni e ci faccio fare appositamente tutto quello e poi collego in qualche maniera. Non lo so, io sto pensando a queste cose. E poi collego. Place multiple. Eh, non risorse, sai che novità. Comunque. Sei metallo. Sei metallo e due di parti meccaniche. Aspetta eh. Qua cosa c'è? Cosa ci avete messo? Cibo. Due metalli. Aspetta, ma i metalli ce li ho qua. Cazzo, i metalli sono qui. Mi porto un rover, i metalli li prende là. Ok. E parti meccaniche però. Ok. Non c'è bisogno del rover. Potrei. Allora, il rover. Dove è il rover? Rover, dove sei? Allora, devo trovare un punto di riferimento per... Allora. Scusate. Ora, io faccio quest'ultima operazione dopo di che davvero stacco perché... Questa operazione che o la faccio adesso o non riuscirà mai più. Io qua. E lì. Tu far... E questo vuole 12 metalli e 8 di elettronica. Io potrei fare... intanto metto questo qua. Ok. I droni non arrivano. Non è un problema. Allora. Quanto è grande la... Sai che forse ce la si fa? Tipo che tra l'altro è abbastanza anche... Abbastanza carico. Non è... Per niente scarico. Quindi se è il rover. Sei il rover. Riesco a metterlo al punto giusto. Sì. Sì. Ok. Ok, 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 ok. I metalli purtroppo ne ha solo uno. Cibo. Storra... Minchia. Certo sta facendo store regge di cibo. Comunque vabbè. Alla parte meccaniche. Ma... Comunque... Aspetta... Fermi tutti. E ora dobbiamo fare giustamente i cavi. I... 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 Ah. We would argue it's a good time to start focusing on our mission evaluation goals. Ah. Total evaluation or bad. Goal... Va bene. Ok. Allora, calma. Intanto devo costruire i cavi. I cavi. I cavi, i cavi, i cavi, i cavi, i cavi, i cavi, i cavi. Ah. Uh. Ok. No. Dopo. Dopo. Qua cosa facciai? Ah. C'è storage. E cosa stanno storageando? Ah. Qua i metalli li stanno addirittura... Allora. Vabbè. Calma. Calma. Metalli. Meteoriter. Facciamo una cosa carina. Allora. Dov'è il... Eh. Transport. Ehm. Vabbè. Tanto... Unload. Unload. Così. Scarichi qua il polimero. E andiamo a caricare. Ehm. 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 spessata. Che dobbiamo fare questa cosa? Perché la concrete la serve. Serve il concrete. La serve. Vabbè. Che posso costruire anche un secondo lì. Ma... E' uno spreco. Ehm. Anzi. Facciamo una cosa. Io costruisco. Concrete Extractor. Ecco. Concrete Extractor. Si. Ok. Comunque una parte lo stanno già facendo. Qua. Poi. Tu. Che c'è un po' di metalli da raccogliere. Direi. All. No. E quali erano i metalli? Questo. Minchia. Solo cinque sono. Mi ricordavo che c'erano molti di più. Comunque. Lord. Qua c'erano... Questi sono tutti i meteoriti caduti. lì. Vabbè che se dovrebbe esserci metalli pure... Eh scusa. Qua pure. Avanti. Sbrigati. Velocizziamo il tutto. Così mettiamo metalli lì. Qui. E fanno quello che devono fare. E fanno quello che devono fare. Poi. Direi. Load. Select a sector to scan. Trovate altri... Altre robe. Nel frattempo la capacità aumenta. No. Io veramente sto... Sto registrando il mondo. Il mondo. Il mondo sto registrando. di cose. Venti. Appena sarà pieno. Lo facciamo scaricare. Qui. A parte il fatto che i cavi già un po' li sta facendo. Adesso. Però. Li fanno sì. E li fanno sì. Ma. Ci andiamo. A depositare un po' di. Load. Anzi. Unload. Oh. E andiamo a depositare un po' di metalli. Qui. Che la cosa può essere utile. Perché una volta che. Dai. Qui. Se va in funzione. Questo hub. Potrebbe essere una gran bella cosa. Perché. Brown hub. Non ci arriva a quei metalli. Però li posso portare. Gli li posso portare. Gli li posso portare. Gli li posso portare. Direi proprio così. Load. Ok. E quindi. Allora. Concrete extractor. Io lo faccio anche qua. Scusa eh. Lo faccio qua sì. Eh. No cable collection. Ma sti cazzi. Lo faccio lo stesso. Eh. Il cable. Ora ce lo metto. Il cable. Ora ce lo metto. Il cable. Ora ce lo metto. Ok. E già che ci sono. Siccome avevo. Attaccato l'altro. Ecco. Allora. Cosa va. Il cable. Ce la fa. Non ci arriva. Non ci arriva. Non ci arriva. Forse non ci arriva. Ah no. Li fa. Ma che li fa. Ok. Oh. Il decommission protocol. Perfetto. Ok. Ora. Questo è diventato inutile. Quindi. Direi che ti può. Allora. Eh. Salvage. Eh. 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 The remains. Of. Of. This building. Ok. Rimuoviamo. Il resto da. Eh. Perché. Eh. Perché. Eh. Perché. Corsa. Partita. Oh. Eh. Già. Eh. Di vedi. Se poteva. Idol X3. Eh. Questo è. Proprio. Finito. Finito. Eh. Allora. Non serve più. Quindi. Piuttosto. Salvage. E poi. Si rimuove. Si rimuove. I pezzi. Direi. Rimuoviamo. Questo. Di che. I risorse. Si sono messe. Abbastanza. Per qua. Prima. Era enorme. L'anomalia. Poi. È diventata più piccola. qua come siamo però però qua adesso c'è un problema ah no forse neanche tanto sapete perché io se se metto ora aspetto che salvo ora devo mettere devo costruire qua c'è qua accanto un deposito di concrete proprio qua accanto no ho sbagliato concrete allora qua eh vabbè uno in più vabbè pazienza io vi direi questo rover non so se serve più a molto perché comunque c'è già il drone hub credo che prenda sia il deposito concreto che qua sì a posto quindi direi che possiamo si può tranquillamente fare a meno io piuttosto verificare un'altra cosa alla ricerca perché posso sbloccarne due cosa sono queste cose cosa è qui marcia new building marcia university specialist specialist qua proprio andiamo sul questo cos'è la donna di margine ok certo less fuel vabbè non stica io direi drone hub ok vabbè in coda rimettiamo questo e questo andiamo sulla civiltà andiamo sulla civiltà ok mentre vediamo un po' qua facciamo una cosa universal depot perché ho capito che universal depot e un altro universal depot ora questo e ancora c'è il cibo da smaltire ah minchia questo non posso perché i droni sono allora e setta custom name non resources are low e un po' un casino resources electronics 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 allora non è che c'ho l'electronics farm electronics factory no no scusami io l'ho già costruito electronics factory metalli rari e allora devo far costruire l'estrattore di metalli rari come to farford tops ok e costruiamolo immagino che abbia bisogno di corrente elettrica ok no che palle io non sono più allora ecco è perché giustamente parte elettronica io non capivo c'è anche parte elettronica e giustamente servono i metalli rari c'ha senso c'ha senso c'ha senso piuttosto il costruttore metallico perché io ne ho fatto uno così a cazzo ma il metallico mi serve 20 concritto e 2 di e 2 di come si chiama e 2 di quello concritto 100 food mai finire metalli rari non ne ho perché devo power shortage minchia allora power shortage quindi devo aumentare ok no vabbè io devo smetterla devo smetterla perché tutto sta diventando pericoloso allora dinei machine parts ma la machine perfect l'ho fatta o sto semplicemente consumando o sto consumando parti meccaniche così alla cavolo io direi a scanso continuare con i pannelli solari ok ok poi e già che ci sono un altro accumulatore ok ok allora io qua sono qua sono al delirio sto sto ok qua sono al delirio a bello il drone hub posso farmelo adesso il drone hub ed è un'ottima notizia questa ora rover command ai non non ne charging start with n command limit e cresce poi ma non lo so quanto veramente quindi direi andare per un cibo a mai finire misero questo co esplamba richiedere pure merendia boh ricerchiamo questo comunque intanto qua ma meno male e quello non posso toglio perché togliendolo ci sono 14 droni ci sarebbero 14 droni che battery low dove c'è una cosa ah ok 5 leak reported il casino mentre qua lo storage ok ok dove allora empty perché è empty ah comunque poi prima o poi lo storage è iniziato ora vediamo un po' power shortage 19 e non basta e non basta non basta qua io sono pure allora devo andare a riportare unload resources carichiamo ah vabbè 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 allora intanto vado a recuperare quelli load no io sto sto impazzendo devo metterci un punto che se no finisco più mi prende tantissimo mi prende tantissimo anche perché non c'è una cosa che dice ok ora posso staccare purtroppo eh tempo e costantemente cosa cos'è cos'è ah questo è tipo una tempesta di sabbia vabbè ma è tanto lontana sti cazzi ok io seleziono un po' da scanizzare direi non allora qua allora questo perseverance ma sai che possiamo proprio spedirlo perché c'è più niente questo rispediamo che cosa allora il take off questo non c'è più niente vai ok oh e così se ne va e a questo punto fare un'altra cosa carina fare la seconda dom che mi serve la seconda dom ok e vi ho impostato anche questo io direi rallentare un attimo vedete la situazione allora diciamo che stiamo procedendo stiamo procedendo abbastanza bene qua la nave che dice di scannerizzare altri settori e non so che cosa vuoi scannerizzare oggettivamente però uno due tre uno e poi non penso ci sia molto alto da scannerizzare comunque e qua comunque ora io veramente qua devo metterci un punto devo metterci un punto altrimenti non esco più già mi sa che passerà molto tempo prima che che riprenderò questo gioco per tutte le puntate che di fatto sto registrando tutte assieme eeeh 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 proseguiamo abbastanza bene nel senso risorse ci sono stiamo facendo robe qua altre robe comunque ci sono da poter fare risorse siamo messi anche abbastanza bene devo soltanto gestircele nel migliore dei modi qua non ci arriviamo con i rover intanto lì quindi io mi sa che rover facciamo una cosa tanto rover qua non serve più quanto ho capito perché lo stesso adesso è a quelle cosa ci arriva quindi io direi che questo rover possiamo portarlo qui dove serve move ok acceleriamo giusto il tempo che il rover con i droni faccia la sua strada fino a lì e poi veramente ci salutiamo stavolta ci salutiamo lo giuro niente questo è un gioco che prende prende tantissimo prende male prende tantissimo io sto non so quante puntate sono di fatto ho tirato fuori da qui ma credo tantissime credo che autosave perfetto direi che posso approfittare di questo autosave per dare appuntamento alla prossima puntata con survival in mars e è questo boh mentre come risorse sono ma che mchia sta dicendo cosa cacchio sta dicendo c'è sono 21 dove sono l'ho le risorse vabbè servo lavoratori gilodrive questa cos'è sta cosa comunque cos'è sta cosa Anony Autonomous Sensors io direi questa cosa cos'è ottimizzazione della batteria ma si ok dai ok non riesco a capire questa cosa mi sa che cancel construction cancel construction cancel construction mi attacchi di torno a farlo in un'altra maniera ok ok no grandi pannelli solari ok e grandi pannelli solari ok incassiamo questa maniera magari se volta li fanno comunque comunque ora ora davvero basta ora davvero devo dire basta devo mettere un punto e direi che ci salutiamo qua c'è un appuntamento la prossima puntata con su baby mars mi sta prendendo mi sta cominciando a prendere davvero tanto in tanta maniera un saluto a tutti quanti voi alla prossima